Ex Lannerossi a Schio, 300.000 metri quadri, a cui oggi finalmente si potrà dare forma. E' qui infatti che prenderà vita la visione di un parco industriale innovativo. La società proprietaria della vasta area ha infatti depositato la proposta di piano urbanistico attuativo per il suo recupero. Il progetto va nell'ottica di dare una risposta a quella che è l'indole del nostro territorio, quindi una produzione di qualità, di un'area attrezzata anche con le ultime tecnologie che prevede un grandissimo inserimento di area verde, molto ben curata, molto ben progettata, fibra ottica, energie alternative inserite poi nella programmazione. Essendo disegnato a moduli consente poi l'aggregazione e quindi la possibilità di soddisfare tutte le necessità di aree che dovessero proporsi, si parte da moduli base di circa 4.800 metri quadrati e in aggregazione si può arrivare anche a 10.000-30.000 metri quadrati, quindi ha una grande disponibilità da questo punto di vista. Fibra ottica e moduli, ma anche parcheggi, viabilità interna, marciapiedi, un occhio e la sostenibilità con un polmone verde e non solo. Nella parte di mobilità sostenibile un valore aggiunto inserendo oltre 5 km di piste ciclabili. Grazie. 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 Grazie.